ciao a tutti bentorni al punto su tre titoli tech su wall street due in ottica in teoria short di breve uno in ottica long partiamo con microsoft che massimi assoluti siamo sul time frame settimanale e in sostanza vediamo come abbia fatto questo massimo fatto a novembre del 2021 e poi come si sia andati a riprendere questo livello con un doppio massimo di breve nel medio breve periodo se scendiamo sul time frame daily è interessante vedere come questo doppio massimo nonostante si abbia una candela settimanale chiaramente bullish vada a disegnare un pattern non diciamo di inversione perché c'è un trend rialzista fortissimo ma comunque un possibile pattern di consolidamento sia abbiamo avuto una apertura in gap che poi viene richiuso e poi con i massimi una sorta di shooting a che sia un po sporca potrebbe sembrare vista l'apertura in gap una candela esaustiva fatto sta che se dovessimo andare sotto area 344 quindi sotto i minimi di nerdy potremmo assistere in teoria a che avrebbe come tale area 325 circa su questa area supportiva che vediamo quindi nel brevissimo ottica short solamente visto il trend chiaramente rialzista solamente sotto ai minimi di venerdì passiamo all'altro titolo che potrebbe offrire movimenti di consolidamento siamo su texas instrument questo perché perché abbiamo avuto i massimi assoluti qui nel 2021 avevamo questa area che data poi un'area supportiva dopo i massimi viene rotta al ribasso e poi tutta quest'area tensa successivamente anche qui non abbiamo pattern ribassisti ma anche qui tutta quest'area una volta che vengono fatti i massimi il supporto che si crea successivamente se rotto diventa un importantissima area di sviluppo vediamo come in sostanza i 185 dollari abbiano per tutto il 2022 2023 respinto il corso dei prezzi quindi anche qui se andiamo a cercare un ipotetico time per cercare operatività ribassista di breve quello che vediamo è comunque una formazione di un pattern ribassiste anche qui andare sotto a soglia psicologica sotto ai 180 potrebbe portare un movimento ribassista di breve e chiudiamo invece andando a vedere un titolo in ottica long ci riferiamo a intel e anche qui il settimanale ci viene incontro innanzitutto area 25 è un'area importantissima supportiva che ha formato poi ultimamente questo triplo minimo che ha dato in là una ripartenza dei prezzi a differenza di texas e di microsoft siamo lontanissimi dai massimi che erano in area 68 dollari adesso siamo in area 33 ed è interessante assolutamente vedere come dopo i massimi di area 37 dollari questa candela abbia dettato un movimento ribassista dati a rompere questo importante livello dei 34 che era stato qua supporto metà della candela bullish verde rotta al ribasso e retestata il movimento di fondo adesso mi sembra mi sembra comunque rialzista se dovessimo avere quindi un ritraccio ancora più profondo in area 31 dollari su questo livello che aveva fatto la discrimine da cambiamento da inversione di trend insomma area 31 dollari mi sembra eventualmente un buon livello in ottica long per la ripartenza per la conferma definitiva di inversione di trend a rialzista un saluto a tutti buon trading